Anticipazioni Un posto al sole, spoiler al 15 marzo, Clara va in carcere, Rosa si ubriaca. Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 marzo annunciano che Clara deciderà di andare in carcere per parlare con Eduardo di una novità inaspettata. Rossella, invece, durante l'addio al nubilato, si ubriacherà e si riavvicinerà a Nunzio. Clara va in carcere, Ida e Diego continuano a vedersi di nascosto. Clara continuerà ad essere dubbiosa circa la convivenza con Alberto, ignara del fatto che l'uomo intende tenerla, nuovamente, sotto il suo pieno controllo. Rosa, nel frattempo, continuerà a pensare che la sua amica sia ancora arrabbiata con lei, ma in realtà Clara si ritroverà dinanzi ad un confronto e ad una scelta difficile, che la metterà in crisi. In seguito Clara andrà in carcere per incontrare Eduardo e metterlo al corrente di una novità, ma lui la spiazzerà con un'inaspettata decisione. Ida, nel frattempo, avrà una serata libera e deciderà di sfruttarla per trascorrere delle ore piacevoli insieme a Diego. Ma i due ragazzi finiranno per far più tardi del previsto e Marina e Roberto non prenderanno molto bene la prolungata assenza di Ida. Rossella si ubriaca e rischia di cedere ad una tentazione con Nunzio con il matrimonio ormai alle porte, è tempo di addio al celibato per Rossella, la quale finirà per alzare un po' troppo il gomito. Ubriaca, la ragazza rischierà di cedere ad una tentazione che ha soffocato per lungo tempo. Turbata per quanto accaduto con Nunzio, Rossella comincerà a prepararsi per il matrimonio con Riccardo. Nico e Valeria si fidanzano, Filippo e Serena scoprono il segreto di Irene Nico e Valeria si rimetteranno insieme dopo 14 anni, ma la novità non piacerà per niente a Manuela. Quest'ultima resterà scossa quando scoprirà la loro relazione e farà di tutto per convincersi del contrario. Irene dovrà andare dallo psicologo, ma finirà nei guai dopo che i suoi genitori scopriranno che la ragazzina stava usando di nascosto il vecchio cellulare di Serena. A questo punto Filippo e la moglie vorranno mettere in guardia la figlia dai rischi e pericoli che si celano sui social e sul web. Ipotesi sulle prossime puntate di Upass, Clara potrebbe essere incinta, ma Eduardo potrebbe lasciarla le anticipazioni delle prossime puntate della sua privelano che Clara farà una scoperta che influenzerà il suo futuro e che La donna si recherà in carcere per mettere al corrente il fidanzato della novità misteriosa, ma l'uomo la prenderà in contropiede con una decisione spiazzante. A quanto pare, riguarderà Eduardo. Non è da escludere che la novità di Clara possa riguardare una gravidanza. La donna potrebbe scoprire di essere in attesa di un figlio da Eduardo, tuttavia potrebbe non riuscire a riferire al fidanzato la novità. Sabbiese, infatti, potrebbe troncare la loro relazione a causa del ritorno di Clara a casa di Alberto.